Stamattina ho fatto la spesa, ho comprato tutti questi oggetti di plastica riciclata costruite dai nostri rifugiati, i rifugiati che dall'Africa vivono in Italia e si sono inventati questi oggetti, il guadagno va a loro, 100%, a costo zero perché riciclano la plastica quindi buttano via la monnezza e la trasformano in questi oggetti anche di grand design quindi braccialetti, gli orecchini, le borsette, dobbiamo lanciare questa nuova moda Grazie